Sono stati donati dai bambini di Pisa, della scuola elementare Toti e della scuola elementare Santa Caterina. Un momento bellissimo, ringraziamo questi bambini, questi ragazzi della scuola elementare che hanno donato 232 giocattoli. Noi ringraziamo ancora questi bambini e diciamo subito che i primi giocattoli sono stati consegnati oggi, gli altri 230 saranno custoditi dal nostro medico eroe, il dottore Pietro Bartolo e saranno consegnati appena arriveranno altri bambini qui sull'isola di Lampedusa.